Se hai una famiglia che ti ama, qualche buon amico, cibo sulla tavola e un tetto sulla testa, sei più ricco di quanto pensi. Io non ho mai capito perché nella vita alle persone buone accadono sempre cose terribili, mentre alle cattive va tutto al grande. Ci sono cose di noi, che li altri non capiranno mai, e va bene così. Tu sei con me, vivi dentro di me, in ogni ricordo che resta di te, e mi piace pensare che tu sia, ovunque io sono. Sai, non ti abbiamo più visto al parco, e ci siamo preoccupati. Se i potenti della terra capissero cosa significa lottare per la vita, credo non avrebbero il coraggio di fare la guerra. Ricordati una cosa, tu non sei proprietario di un cane, tu hai un cane e lui a te è semplice proprio. Ritiro patente a chi abbandona animali in strada, la legge è passata. Finalmente ho capito una cosa, a certe persone fai bene solo fino a quando fa comodo a loro. Sei, più conosco gli uomini, più amo gli animali. Non ho bene i materiali da offrire, ma possiedo una cosa che a molti manca, è il cuore. Caro Dio, e proteggi tutti gli animali del mondo, dall'ignoranza umana. Amin. Sai, il dolore cambia le persone, alcuni diventano aggressivi, altri diventano silenziosi. E ci sono pianti di cui nessuno sa e non saprà mai. A nessuno interessa più la verità delle cose, a meno che la verità non coincida con il proprio comodo. Meno si vede, meno si sente, meno si sa, meglio si sta. Sei, a volte è necessario soffrire per crescere, fallire per imparare, perdere per guadagnare. Le lesioni più grandi della vita arrivano dal dolore. Non puoi fare lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai non è più un errore. È una scelta. Io non odio persona alcuna, ma vi sono uomini che ho bisogno di vedere soltanto da lontano. L'unica lezione di matematica che ho imparato nella mia vita è stata questa. Più dai, meno ricevi. fai il meglio che puoi. Con quello che hai nel posto in cui sei. Posso dirti una cosa? Invece di comprare ai tuoi fili tutte le cose che non hai mai avuto, dovresti insegnare loro tutte le cose che non ti hanno mai insegnato. Le cose materiali finiscono, la conoscenza no. Più vivo più sono convinto che questo pianeta sia usato da altri pianeti come manicomio dell'universo. Se ti piace già Spanial metteci un like e iscriviti al canale. Grazie mille. Secondo me non si invecchia andando avanti con l'età. Si invecchia quando si smette di ridere. Sai, c'è gente che non sa cucinare, ma in compenso è bravissima a rigirare la frittata. Io ti aspetto, ma non so come si conta appena per sempre. Sai, la cosa migliore che ho fatto è stata smettere di raccontare a tutti cosa succede nella mia vita. Io voglio continuare a credere che prima o poi la vita riserverà qualcosa di buono anche a me. Grazie mille per restare con JustFanIWall. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie. Restate bene. Grazie mille.